E' sempre più attualità il piano paesaggistico regionale perché esso rappresenta il quadro di riferimento per le azioni di tutela e valorizzazione dei paesaggi campani, ma anche il quadro strategico delle politiche di trasformazione sostenibile del territorio in Campania. Proprio per questo c'è attenzione ma anche tanta preoccupazione sul tema. Ma a che punto è il piano e quali sono le difficoltà del momento? Lo abbiamo chiesto al Presidente dell'Associazione Empatese in Movimento, Ancelo Milo. Allora, il piano paesistico regionale, noi già siamo intervenuti un paio di settimane sull'argomento, sempre nell'ottica di sollecitare gli enti preposti a svolgere il proprio ruolo. C'è da dire che il piano paesistico regionale che si sta redigendo parte dal 2016, nel momento in cui è stata messa su un'intesa istituzionale tra l'allora Ministero dei Beni Culturali e del Turismo e la Regione Campania, attraverso un comitato tecnico che doveva redigere un preliminare di piano paesistico regionale. A tutt'oggi lo stato dell'arte qual è? Che il lavoro preliminare è stato fatto ed ha portato praticamente ad un risultato che ha sviluppato una serie di cataloghi e di atlanti, tra cui praticamente il catalogo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei siti, l'atlante degli ambiti di tutela, il catalogo dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua, il catalogo delle zone di interesse archeologico. Quindi, come ben si può capire, sono tutte attività che incidono o andranno ad incidere, nel momento in cui ci sarà il piano definitivo, fortemente su quella che è la pianificazione del territorio. La domanda che noi ci poniamo è questa. Come può essere che dal febbraio del 2023, in cui praticamente la Regione, con un proprio decreto dirigenziale, ha chiesto alle amministrazioni comunali interessate, tutte quindi i comuni della Regione Campania, di fare delle osservazioni, da quello che noi abbiamo come notizia, quindi il 10 aprile del 2023 sono scaduti i termini, nel nostro areale, quello dell'Alto Casertano, ma anche di tutte le, diciamo, ci risulta delle aree montane, che vanno dal Monte Santa Croce, Monte Maggiore e Matese, non siano state fatte osservazioni, almeno questo è quello che ci risulta, poi ben venga per chi l'ha fatta. E quindi, diciamo, tutto questo ci porta ad esprimere delle preoccupazioni. C'è piena condivisione fra i comuni? Allora, il problema si pone proprio in questi termini, noi non c'è dato sapere se è condivisione o cioè, perché noi da un'indagine esplorativa fatta da qualche settimana fa, almeno per i comuni che riguardano l'Alto Casertano, abbiamo preso atto che i comuni questa cosa non l'avevano affrontato, questo problema non l'avevano ancora affrontato. Considerato che i termini sono scaduti ad aprile, noi non sappiamo adesso qual è lo stato dell'arte reale. In definitiva, che cosa si può fare adesso? Noi riteniamo che uno strumento, diciamo, di pianificazione territoriale così importante e determinante per il futuro dei nostri territori, non possa essere oggetto di un confronto. Per cui auspichiamo che a breve, cioè velocemente, la regione insieme con gli enti interessati, con i comuni interessati, metta su un tavolo di confronto per cercare di assolvere a questo vuoto che si è creato.